E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ci siamo tornati qui con un nuovo video di calciomercato perché il Milan ha fatto due nuovi acquisti, uno è Andrea Bertolacci e l'altro è Simone Verdi Andrea Bertolacci proviene dal Genoa che era in comproprietà con la Roma, la Roma l'ha acquistato, cioè l'ha riscattato e poi la volontà del giocatore è deciso quindi di andare al Milan perché preferiva il Milan, non perché preferiva come squadra perché preferiva che lì al Milan aveva il posto quasi sicuro da titolare ragazzi quindi abbiamo preso Bertolacci, acquistato per 15 milioni più bonus, quindi 15 milioni più bonus alla Roma e un milione e mezzo di ingaggio annuale al giocatore, non male ragazzi perché un milione e mezzo non è tantissimo alla fine come ingaggio sulla cifra è un po' discutibile però si poteva pagare anche 15 milioni però abbiamo pagato più il bonus se no forse non ci saremmo arrivati a questo giocatore e niente comunque a me è un giocatore che piace tantissimo, l'avevo descritto nell'altro video dove avevo detto che era ufficiale alla Roma insieme a Jacofalque Bertolacci ha 23 anni ragazzi, è un giocatore con margini di miglioramento sempre più grandi un giocatore mancino, dall'ottimo palleggio, anche un ottimo tiro, un'ottima personalità è un giocatore che piace moltissimo, ha cresciuto nella primavera della Roma mi pare e niente al Genoa ha fatto due anni o tre anni fantastici perché ha giocato davvero ad altissimo livello mi ricordo l'ultima stagione davvero pazzesca, un grandissimo Andrea Bertolacci, un grandissimo acquisto finalmente ragazzi, un buon e ottimo acquisto Andrea Bertolacci l'altro acquisto è Simone Verdi, il talentino dell'Empoli che è stato quest'anno, ha giocato molto bene Verdi, ottimo talento con anche lui, era in comproprietà con il Toro ma noi l'abbiamo ripreso con 450.000 euro quindi una buona cifra per riprendersi un talento che lo vorrei vedere qualche volta ragazzi perché se la società non punta su questi talenti non crescerà nessuno, nessuno ragazzi quindi dobbiamo farli giocare come abbiamo fatto a giocare Mastalli perché è spicciolo di partita e dovrebbe giocare anche Mastur magari una volta ma la società se non si decide a schierarli c'è poco da fare questi sono i due acquisti del Milan, sono contento così adesso il Milan punta su Bacca, quindi il mercato si gira sull'attaccante su Bacca, Jovetic, non si sa chi verrà tra i due e poi si punta a un difensore centrale, credo, e a Witzel questi sono i nomi più caldi come difensore centrale, si è accennato Abdenur ma non molto di più ragazzi però la società spero che mi sorprenderà almeno stavolta non come le ultime due trattative fallite vabbè ragazzi per questo video vi può finire qua io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto commentate e dite cosa ne pensate di questi due buoni acquisti secondo me adesso Gagliani vai avanti e rinforziamo ancora la squadra almeno dobbiamo provare a rinascere perché dopo tre anni così non ce la faccio più io vi saluto, bella